Carissimi amici, non avrei mai voluto registrare questo messaggio, perché ci ho creduto, ci abbiamo creduto tutti nel poter organizzare il Green anche per il 2020. Dopo l'illusione di una normalità che ci ha dato l'estate, come potete leggere, come avete potuto leggere sui giornali, vedere sui giornali, purtroppo la curva dei contagi sta aumentando. A dir la verità, noi avevamo messo in moto e in atto tutti i protocolli di sicurezza per poter garantire il regolare svolgimento del corso, in collaborazione con lo staff organizzativo e anche con la direzione sanitaria dell'azienda Sampio, dove avremmo ospitati. Ad oggi non c'è nessun decreto che vieta i corsi e i congressi, ma di fatto saremmo dovuti rimanere ingessati, ognuno al proprio posto, distanti, senza poter dar vita al cuore di Green, che è l'aspetto pratico, l'interazione, la possibilità di confrontarsi, provare apparecchiature, di collaborare, di essere vicini. Sarebbe stata la negazione di Green, sarebbero stati due giorni pieni di preoccupazioni, di tensioni, immobili, ingessati, rispetto a un corso che è stato sempre pratico, teorico e non teorico-pratico. Per questo abbiamo deciso di rinviarlo all'anno prossimo, al 9, 10, 11 settembre 2021, con l'augurio, con la certezza che potremo invece di nuovo fare il nostro Green, come lo sappiamo fare, facendo prevalere tutte le informazioni pratiche, tutti gli aspetti pratici da poter utilizzare e portare a casa. Auguriamoci al più presto che questo virus fantasmatico, che tanto ci dà preoccupazioni, che tanta sofferenza sta disseminando in tutto il mondo, possa scomparire al più presto. Io, a dir la verità, ho sentito tanto il vostro affetto in questi mesi, la voglia di partecipare al mio corso, e quindi l'apprezzamento per la qualità formativa del nostro Green. Ed è per questo che prendo l'impegno per poter non solo riproporre il Green nel 2021, ma in questi mesi per offrirvi dei percorsi formativi via webinar a distanza, che abbiano il massimo di interattività, e quindi vi diano la possibilità comunque di apprendere in questi mesi che saranno forse un po' più dedicati a rimanere nelle nostre case. Non mi resta altro che abbracciarvi tutti e darvi appuntamento a presto. Grazie.